Qui abbiamo il boxer della linea 20 Nordi, modello 938. Questo boxer viene posto in quattro colori, nel bianco, nel grigio, nel nero e nel blu. Andando un attimino nello specifico di quello che riguarda questo modellino, abbiamo un boxer che ha una lunghezza di gamba esterna di 37 cm, una larghezza di coscia, in questo caso nella 4XL, che è 25 cm. Abbiamo un tessuto di 90 cotone e 10 elastanti. Questo tipo di boxer è un boxer che ha un tessuto veramente molto morbido e molto elasticizzato. Considerate che misurando la 4XL parto da una misura di 46 cm, come vedete appoggiato sul tavolo, ma se lo vado un attimino a largare, arrivo fino a 75 cm. Tagli forti uomo, siamo sempre una taglia avanti.